Allora raga, ieri abbiamo provato praticamente il dungeon dell'evento di Halloween, Chirito, e niente, questo è quello che è successo. Comunque è spettacolare, è bello proprio. No, ma è spezioso. Bello veramente. Però c'è sta, capì che fai un dungeon a team, eccetera. No, infatti il GG, cioè veramente... Ma si possono raccogliere... Ma non lo so, ho raccoltato a Zucca, ma è uscita a Zucca. Non ho ben capito. Ah, se la accoglie da Zucca, non è molto simile. Eh, va boh. Un po' troppo. Sono un po' troppo. Quando pure male, molto male. Ma ciò, non mi piace, ciò, no, c'è veramente brutto. Un po' troppo scomodo. Sì, molto. Stato spostato a banco. Ma poi praticamente facendo il dungeon, poi anche, ha detto quello che non dobbiamo chiedere. Eh, scusa qua. Ah, sì, effettivamente non ci servono di molto, no, niente più, ok. C'è scritto da... Vabbè, esploro un pochino, c'è il scalderone qua. Dove vanno, activation device. Quindi, ma è partito a Zucca sopravo. No, il vagono è un po' sottratto. No. Eh, butti di giù e risponi al cerco. No, così. Andava da critta, udizio. No, 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 posso venire con le cose. Posso fare il parkour? In serio? Che figato. Eh, infatti. Che poi tipo, quello che prende nel dungeon dopo, però fa pure i cib. Eh, ne ho fatto visto caramelle, c'è roba varia. Sa che serve. Forse delle casse. C'è pure il cibo che dà 50% di un esterio, te. Ah, tipo come i libri, no, i libri da 1.30. Eh, fai il cibo da 50, più quell'altro da 30, comunque buono, c'è il 80%. Oh, attimo, eh, quasi doppio. Ma, ma da qua, può passare, sì, ma che da una volta non faccio adesso. Quasi quando va, eh. L'hanno modificato pure il coso per selezionare gli abbiati e curarli. Sì. 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 a me sì però mi picchia dai ci sta morendo prima ti ha detto che mi devi che il laurea ti dice via la c da una parte ce l'ho del bione dall'altra nessuno ti ha detto di buttarti avanti l'altra parte papà c'era adesso però decidi e poi devo pulare te l'attacca o ne devo via ma donna se ne di vita togliamoli da mezzo e quindi no non fammi vedere noi diamo sta zucca no? ah ne dobbiamo modere un'altra eh non capisco dove caspita dobbiamo andare 2 su 3 ah si devono portare qua nel carrello o che parci è rimasto da botte a 3.000 niente scappos chi ti vuole 4 all'ascarata secondo me no ok messi abbiamo abbiamo salvito non vedo il vostro la spaga 1 quando entra in giro go l50 healer 1 ah si è perso quello comunque no o 4 non lo so che è infatti eh ah beh vediamo se riesce a rientrare ok andiamo a cercare po' no siamo belli ma non mi ti basso no oh ma ne vediamo se dove è la zucca e magari lo giocato ah 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 oh ah 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 ok ma non è una misura e abbarca la vita del mondo la stella per l'assoluto se non amo o questo fatto molto c'è un po' no sicuro sicuro ma dai con un po' di mano eh non ho il cerchio non è tutto per l'anno ma lì dai tu ti facciamo adesso con questo modo non ti senti male e ora? ah so un po' qua c'è il campo io direi fuggiamoci un attimo oh che è questa zucca? rotola rotola sto morto no spenzioso no ma piatto non c'è no vedi non lo devi toccare però a un certo punto devi aspettare a passo perché se non c'è ma che... è spenzioso però bellissimo che bella erai ok no 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 devo aspettare è lucky carino però questo no come mi ha preso no no не ah niente c'è attivo del circo delle solvzioni però mi è stato divertiva peggio comunque no oh bello c'è mmm gg mi piace veramente divertente 푸ta Questo è il boss Andiamo a ripetere, non l'hanno fatto né troppo incasinato né troppo semplice È spizioso Vediamo queste meccaniche Tutti morti, prima wipe È difficile Cioè prima tra... Ah già, questo è proprio progettivo Ma è tipo quello del Butcher Cane No, quello del... Ah, vissi qua, il Karmix Ah, tu dici per il fatto del cerchio? Sì Eh, infatti sì, c'è tu Il cerchio La bomba? Ah, non sono il target Ah, praticamente devi spingere, perché c'era quello che stava sparando No, mi ha scappato Sì, te la devi buttarlo È un'altra cosa Sì, te la devi buttarlo Ok OK Ah illuminata se diventino zucco ma capite se tipo devi toccaturirla quindi la devi evitare scherzetto vabbè raggiungo ah e via non capisco quando devo cliccare sembra tipo un 2 e 3 stella ah devi entrare nel cerchio ma sta caspita di mosca non si muove nooo nooo ah ma vuole spawn o no non si muove non l'ho capito ti è morto proprio male eh tipo quando si gira ti metti giù tipo un 2 e 3 stella devi scegliere la mercisi ah l'ho fatto di spawn si si ma la la l'ho e andando desistante non è schizioso potrò pure spona quindi ci metti un po' però butti giù no, l'ho bomba, l'ho bomba no, no, no eh, non c'è arrivato all'interno ho già lo scudo che non gli sai niente qui non c'è via la colorata dei piedi mondo a volte sono un libro da tutti i pomodori Sì. Io non sarebbero due, dai. Ai via. Gigi. Gigi? Ci dà la cesta a forma di zucca. Ok. Eh, comunque è tutta roba viola che ti servo. Ah, la puoi aprire invece dei gettoni con le caramelle. Per aprirla, no? Mi dice uno su due. Che è mandato a 500 su Holland. Ah, che comunque, quella scia fa? Sono buono. Cinque bundle, non so di cosa, e due dimension, due zucche dimensionali. I bundle, se li avete da tutta roba viola comunque. Sono buono. Sì, sì. Ti dà tutto... Una roba per potenziale. No, comunque è sfizioso. C'è sta. C'è sta. Lascia sta. Poi ti dà pure... Oh, mi ha dato 20 pollici al crystal viola. Due da selezionare. Buono. Ma niente ragazzi, se vi è piaciuto il video, un bel like e ci svecca nel prossimo episodio. Ciao, ciao belli. Ciao. Ciao.